Con l'arrivo della stagione estiva i camerieri si confermano tra le figure professionali più ricercate con quasi 60.000 profili nel mese di giugno. Un numero questo come rileva l'ufficio studi di Fipe Confcommercio destinato a raggiungere le 137.000 unità nel trimestre giugno-agosto. Tra le figure stagionali più ambite seguono poi i cuochi con 22.000 assunzioni previste e infine i baristi con quasi 20.000 posti da coprire. Dei 430.000 contratti di lavoro offerti dal settore terziario nel mese scorso, oltre un milione se si considera il trimestre giugno-agosto, la maggior parte proviene dal turismo con 160.000 assunzioni previste. Di queste oltre il 75% riguardano i servizi di ristorazione che arrivano a oltre 275.200 nel trimestre, un dato dovuto sia all'avvio delle imprese stagionali che all'intensificazione dell'attività legata al turismo. Il 77% delle assunzioni avverrà tramite contratti a tempo determinato, mentre l'8% a tempo indeterminato, mentre la restante parte delle collaborazioni sarà regolata con l'apprendistato e altre tipologie contrattuali. Dal 23 al 25 giugno si tiene a New York il Summer Fancy Food Show, la principale fiera americana dedicata al mondo del food and beverage. Anche quest'anno le imprese italiane parteciperanno con un'ampia rappresentanza. Abbiamo intervistato la direttrice dell'IC a New York, Erika Di Giovancarlo. Questa di New York è veramente l'edizione più importante. C'è una partecipazione di aziende in generale enorme, ma l'Italia si distingue per la presenza di numerose aziende e tutte di qualità. Il padiglione italiano ospiterà circa 300 aziende assistite da l'IC che organizzerà per l'occasione una grande lounge per facilitare gli incontri con i buyer, degustazioni e show cooking. Alcune aziende presenteranno la propria produzione dei piatti realizzati con i propri prodotti, rigorosamente italiani ovviamente. In questa occasione quindi ci sarà la possibilità di descrivere il prodotto e farlo degustare nella maniera corretta e tutti i partecipanti potranno anche vedere come il piatto deve essere realizzato al meglio. Sarà un'occasione divertente oltre che molto utile e poi ospitiamo anche, abbiamo un'area dedicata ai coldiretti e tante altre attività organizzate dai vari consorsi che si svolgeranno nel corso delle tre giornate. In questa occasione per la Fancy Food avremo anche la presenza del Ministro Lolo Brigida, del Presidente e del Direttore Generale dell'ICE. Insomma è un evento importante, importantissimo per questo settore e tante aziende italiane saranno presenti e lì ci si dedicherà ad assistere tutte quelle piccole e medie che in particolare hanno bisogno di un aiuto in più per penetrare il mercato estero. Per l'esportazione dei prodotti agroalimentari italiani negli Stati Uniti continua intanto il momento particolarmente felice. Abbiamo analizzato una finestra temporale dal 2000 ad oggi e il trend si mantiene, continua ad essere in crescita. A parte alcuni momenti ovviamente di crisi un po' mondiale come nel 2008 la crisi della Lehman Brothers e così come anche il periodo passato recentemente della pandemia. Relativamente al settore del vino, l'Italia gioca sempre un ruolo molto importante e infatti nonostante le importazioni di vino dal mondo siano diminuite, l'Italia è riuscita a mantenere dei livelli stabili. Stefano Gallini è il nuovo presidente di Federbetton Confindustria, la federazione che riunisce le imprese della filiera del cemento e del calcestruzzo. 51 anni, Gallini è amministratore delegato Italia di Heidelberg Materials, ex Italcementi. Obiettivi della sua presidenza sono l'accelerazione della strategia di decarbonizzazione e la tutela dell'industria italiana, a cui si affianca una rinnovata volontà di fare cultura per raccontare la qualità, le innovazioni e la sostenibilità di materiali fondamentali per la vita quotidiana e per lo sviluppo socio-economico del paese. Le priorità del nostro mandato saranno sicuramente il continuo recupero dell'immagine e della reputazione del nostro settore, del cemento e di tutta la sua filiera. Materiali fondamentali per lo sviluppo delle popolazioni, dei paesi, delle infrastrutture, scuole, ospedali, uffici e di case. La difesa dei nostri mercati dall'attacco delle importazioni e la sfida ambiziosa nel medio e lungo termine della decarbonizzazione. Gallini succede alla presidenza di Federbetton a Roberto Caglieri, oggi membro del Managing Board globale del gruppo Heidelberg Materials. Sono stati sei anni molto intensi in cui abbiamo lavorato su tematiche definite sin dall'inizio e specificamente sulla reputazione del settore, l'accreditamento istituzionale e la sostenibilità. Credo che oggi l'associazione abbia gli strumenti, l'organizzazione, la determinazione e le competenze necessarie per fronteggiare e supportare queste tematiche ancora nel capitolo futuro e sono sicuro che così verrà fatto con grande efficienza. La metà delle partite IVA paga meno tasse grazie ai regimi agevolati. Il 49,2% di autonomi, ditte e professionisti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2023 si trova infatti nella flat tax del regime forfettario dei minimi. 85,2% di circa 42 milioni di contribuenti IRPEF detiene rendito da lavoro dipendente o pensione e solo il 6,5% totale hanno un reddito prevalente derivante dall'esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo che include anche quello in regime forfettario e di vantaggio. Grazie. Grazie.